ma guarda buonasera ma non hai vari così così a debotto senza senso buonasera ragazzi ora questi siamo stiamo facendo delle cose siamo in ritardo perché stiamo facendo delle cose il ritardo poi di 23 minuti perché stiamo facendo delle cose fra l'altro ancora soffrendo di cenare come capita molto spesso il mercoledì come cazzo hanno fatto e mauro zingarelli sapendo di sistemare le sue cose allora è che mi ero dimenticato come si vive intanto per chi se lo stesse chiedendo visto che c'è c'è un contenuto diciamo così che è stato pubblicato nel nostro account instagram marco cioni ha fatto delle storie quindi lo possiamo dire che marco cioni ha fatto il nome ci ha taggato pezzo di fango alla domanda ma era proprio gabriele mainetti quello in studio da voglio oggi pomeriggio la risposta è sì perché cosa abrile mainetti ragazzi che per quel cosa basta cambiare mai ne chiesa mauro mauro perché cosa lo scopriremo a breve anche se è un po il segreto di pulcinella abbiamo precisamente tra nove giorni tra nove giorni tra otto giorni e nove giorni invece uscirà il come cazzo hanno fatto dedicato a chissà cosa chissà cosa a chi sa cosa si può dire non si può mauro zingarelli per questo io ti lascerei mentre finisco il mio piatto di pasta ti lascerei chiacchierare scusate ragazzi io mangio vai prego è stato è stato molto molto bello abbiamo parlato di cose gli abbiamo anche parlato dello short movie live mi è parso molto molto interessato quindi ha detto che se lo viene a vedere si si ha voluto sapere dai dai verrà verrà al cinema quindi questo mi porta a dirvi se volete venire se vuole se non volete essere da meno a gabriele mainetti e volete anche voi venire cinema a vedere lo short movie live potete ecco qua qui c'è ancora il l'obiettivo donazioni trovate il crowdfunding e ci sono ancora tutti quanti i biglietti da acquistare nel senso ovviamente a questo obiettivo lo mettiamo speranzosi di raggiungerlo però cioè se voi ci volete dare tutti i soldi del mondo noi possiamo solo fare una cosa ce ne sono sono rimasti sono rimasti dice già con un borio e salutiamo e andrea franzini pure lo salutiamo sono rimasti circa 40 posti al cinema di cui circa la metà a roma e l'altra metà a milano esatto più o meno quindi ovviamente nel momento in cui voi vi comprate tutti quanti questi biglietti noi siamo contenti perché avremo le sale piene e potremmo farvi vedere questo dato che lo stiamo girando per il cinema ragazzi stiamo girando per il cinema nel senso ieri oggi adri abbiamo fatto una nuova adriano di cui non vi svelerò il contenuto però quello che ha detto adriano ha fatto ragazzi ma noi non stiamo girando un cortometraggio noi stiamo girando tre giorni di un film sì effettivamente effettivamente sì quindi ieri siamo andati a fare le sopralloghi delle location con il direttore della fotografia che ormai sapete perché è uscito anche nel nel video di matteo ed è già luca palma che è il direttore della fotografia sicuramente la roba più conosciuta avete visto di gianluca sono i tutti i videoclip liberato quindi lui sa il segreto mi sa chi è liberato e è anche il diretto la fotografia dei due film che ha fatto lettieri come regista ovvero ultras e lovely boy che appena uscito quindi nel senso ieri siamo andati a fare questo bellissimo sopralluogo in questa location dove ricorda ragazzi che il che si basa su un pitch che parlava di un mondo post apocalittico quindi il problema è proprio quello noi stiamo facendo tutti i costumi siamo le location la scenografia stiamo preparando questo mezzo di trasporto pazzesco fichissimo tutti questi costumi tutti questi personaggi tutte queste 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 questi loro vestiti di questo nuovo mondo post apocalittico stiamo facendo delle cose ragazzi che voi non avete idea non avete idea soprattutto di che vuol dire a livello economico e organizzativo quella cazzo di parolina post apocalittico quando un si sente quella parolina dice madonna mia i soldi la donna mia le cose un po sì un po sì infatti anche ma anche mainetti oggi l'abbiamo fatto e addirittura e comunque non è come dire nuovo a questo genere di cose ma stiamo facendo delle cose molto fiche quindi per finire di fare questo pippone vi ricordo come dicevo le donazioni potete farle qui e qui sopra vedete l'obiettivo donazioni per cui ci sono donazioni che potete fare al crowdfunding e vi voglio ricordare che oltre a essere rimasti i biglietti per venire a vedere le due proiezioni che faremo al cinema una a milano e una a roma sono rimasti ancora tre se non ricordo dei quattro posti per venire sul set cioè è il perk come cazzo abbiamo fatto e praticamente grazie a quello potete proprio fisicamente venire con noi sul set una giornata a chiederlo di presenza mauro ma come chiederlo in presenza esatto esatto quindi quindi essenzialmente questo questo è quindi se vi interessa è rimasto quello altrimenti qualsiasi cosa ci dà una mano a come dire a mettere un pezzettino di vestito in più ecco un po quello il discorso esatto cioè calcolate che ogni donazione è tipo un bottone in più se no a un certo punto stanno senza bottoni per dire no non è vero ovviamente è vero ovviamente perché fra l'altro per esempio la cosa che ci teniamo a dire è da dalla live dell'altra volta che vedete ogni tanto apparire in alto a destra il loghino di NordVPN perché per esempio NordVPN è una realtà con cui già abbiamo collaborato in passato lo sapete bene che quando gli abbiamo parlato del progetto quando gli abbiamo parlato di questo corto hanno deciso ovviamente avete un internet abbastanza sicuro ci hanno detto comunque hanno deciso di supportare questo progetto e per questo vedete vedete il logo in alto a destra perché a loro è piaciuto tantissimo quest'idea e oltre che del cortometraggio di per sé che comunque anche la storia è carina adesso noi abbiamo le sceneggiature più o meno carina portacci tua io non voglio esagerare Adriano Santucci spoiler all'altra sera l'hanno mezzo rimproverato io voglio dire solo che è carina perché non voglio dire chissà che loro pure hanno detto dai vi diamo una mano vi supportiamo e quindi ringraziamo sempre NordVPN per questo aiuto per sta manuzza esatto quindi niente oggi comunque ho fatto questa incredibile incredibile lunghissima pippa quindi vi ricordo dateci una mano che ve ne saremo grati e vedrete il risultato sul grande schermo carina fa un po schifo ma si lascia vedere esatto esattamente no è molto bella ragazzi siamo arrivati alla terza stesura tra l'altro sarà la prima live che faremo quella della sceneggiatura siamo arrivati alla testa ma sono le zone che lo sceneggiatore lo sento proprio oggi e niente siamo 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 molto molto contenti definire di essere finiremo a Venezia 79 non lo so ci sono altre realtà che potrebbero collaborare non ne abbiamo idea però finora la cosa bella è che non stiamo permettendo tra virgolette cioè NordVPN ci dà una mano perché non come dire si è accollata di lasciarci fare quello che volevamo nel senso non ha detto non ha detto che però c'è a un certo punto uno dei personaggi deve dire questo corte sponsorizzato da NordVPN stiamo cercando il più possibile esatto cioè non esisterà product placement non esisterà modifica non esisterà niente nessuna quantità di soldi potrà farci cambiare idea su questo perché come sapete benissimo molti film hanno appunto il product placement cioè un prodotto piazzato in scena e molte volte esatto molte volte viene esagerato il piazzamento del prodotto io ricordo un videoclip di Tiziano Ferro ciao tizzi ti vogliamo bene tutto ambientato in montagna dentro una baida dove a un certo punto lui è mezzo sfocato in fondo e su un tavolo c'è una bottiglia di amaretto di saronno la bella in vista con l'inquadratura che passa eccetera oppure tutte le robe che se magna Rovazzi durante i suoi videoclip no con le merendine che le guarda a me fa molto ridere mezzo forte che dice per essere accettato di fare product placement guarda non si pone neanche lì il problema è un corto post apocalittico non ci sono prodotti non ci sono prodotti no vabbè qualche cosa si trova sempre non è quello il problema il problema è che vogliamo evitare il più possibile che arrivi qualcuno e dica vabbè è un corto post apocalittico però tapo e magnana girella cioè capito vogliamo evitare proprio questa cosa qui un Twinkie come in zombie comunque va bene detto ciò noi oggi parleremo di Darkick, Free Guy e Coraline io di Coraline ho un tocco di cose che mi sono avanzate di cui vorrei parlare io questi sono tre film di cui non so letteralmente un cazzo di niente perché Free Guy è un film Amazon, produzione Amazon uscito da pochissimo fra l'altro l'ho visto no non è Amazon, è Disney eh non è su Prime Video Free Guy è su Disney Plus sono una pippa, perfetto sono talmente poche è Fox è prodotto dalla Fox ed è stato prodotto nel momento in cui la Disney stava acquistando la Fox quindi è stato prodotto la Disney ha comprato ed è uscito io l'ho visto su una piattaforma onestamente non mi ricordavo dove quindi niente Amazon, Disney Plus l'ho visto carino non ho urlato al capolavoro però l'ho trovato carino Coraline purtroppo non l'ho visto e so che devo vederlo ancora Line che poi in Italia hanno aggiunto il sottotitolo è La Porta Magica mi pare La Porta Magica che tra l'altro è un libro di Neil Gaiman ok e poi Dunkirk l'ho visto una volta a Cina mi sono spaccati i coglioni e non lo vedrò mai più eh va bene va bene così sono spaccati i coglioni quindi prego Mauro Zingarelli su con cosa vuoi cominciare questa serata non lo so forse tu Frigai non l'hai visto no Frigai sì 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 l'ho visto non mi ricordavo mi ricordavo ero convinto che era su Amazon invece su Disney Plus però Frigai l'ho visto l'ho trovato anche carino ti ripeto cioè molto me lo aspettavo tremendamente stupido invece non era stupido un film carino era Caluccio non ricordo quante cose sono rimaste e quante cose sono state tagliate noi allora abbiamo come cazzo hanno fatto è rimasto ovviamente ma principalmente è rimasto tutto il discorso del face replacement per esempio c'era il raccontino l'aneddoto che avevi raccontato su come a un certo punto si vede che è Guy il Guy Bello o il come cazzo lo chiamava Marco nel video il Nandrolone il Nandrolone esatto il Nandrolone prende una vespa e gliela tira addosso ecco per esempio quel pezzo della vespa l'ho levato cioè l'ho dovuto tagliare quindi c'era un raccontino su questo pezzo della vespa a me fa molto ridere ci sono state una serie di di correzioni si chiama Dude ma Nandrolone è più bello ragazzi perdonateci Marco Cioni stavolta ha coniato bellissimo come nome allora che correzioni no nel senso che non so mi sono state fatte un tot di correzioni sul peso di di Aaron Reed che è il bodybuilder che ha detto pesa 140 130 kg e io allora lui deve aver mentito perché perché nel video diceva che pesava 200 kg poi io adesso non volevo controllare ti sto contando adesso e dice ok è giusto è giusto come dicevano giustamente nei ma dove la trovi questo 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 dato beh è un famosissimo bodybuilder quindi una delle cose più importanti e quanto pesano quindi basta che scrivi Aaron Reed weight e ti esce scritto che pesa 300 di 295 310 libri che poi sono più o meno la metà 130 140 kg quindi non so forse ho svarionato io ho sentito 200 forse diceva libri eh no perché sono 3 forse ho sentito 300 libri il mio cervello ha tradotto 200 kg non so può essere può essere può essere non ci ho capito tipo 180 kg aveva detto nel video io ho detto 200 kg comunque ho sbagliato il problema a me con il fattore di ryan reynolds è alto madre 90 eh sì quello nel senso e capite questa persona quanto deve essere gigantesca per far sembrare ryan reynolds basso cioè è questo grave problema c'era che reynolds è grosso ragazzi reynolds è una branda sai io quando mi sono accorto che lui è veramente grosso una volta che ho visto un video con dove stava con cosa wolverine come si chiama Hugh Jackman Hugh Jackman lo sapevo comunque il mondo lo sa che è gigantesco e siccome lui era lì con lì mi sono detto porca puttana ma allora il suo tizio è enorme e lì mi sono reso conto un po' della sua stazza ma sai cosa è una cosa paradossale succede a me succede spesso soprattutto in questo periodo di film di supereroi gli americani in generale tengono Hugh Jackman la gli americani sono più grandi cioè nel senso per chiunque di voi alla fine è stato in America si ricorderà se ha camminato nelle strade di New York o Los Angeles di essersi reso conto che sembra di stare un po' nel paese dei giganti gli americani tendono ad essere più grossi più alti più massicci comunque più bassi di Marco Cioni sicuramente sì assolutamente però comunque sono molto alti quindi in generale gli americani sono più alti degli europei ma la cosa strana che spesso succede è che gli attori sono il top del top quindi sono i più belli i più alti i più fisicati eccetera eccetera no e quindi paradossalmente in un film bene o male quando becchi Chris Hemsworth accanto a Chris Evans accanto a sono tutti enormi e dici ah ok va bene sono accanto a Jason Momoa sono tutti giganteschi e tu dici ah ok perché sono tutti quanti degli esseri umani normali tipo noi tu vedi tutte le persone della Slim Dogs tranne Marco Cioni che è altissimo per il resto siamo tutti più o meno altri uguali ok siamo tutti messi più o meno così noi siamo tutti intorno tra il metro e settanta e il metro e ottanta dato che gli attori americani invece sono il top del top sono tutti da un metro e ottanta a un metro e novanta e quindi sembrano delle persone normali ma poi nella realtà sono tutti dei giganti tranne Tommaso Crociera dicono ma credo che anche neanche Robert Downey Jr credo sia è vero forse pure lui adesso cerchiamo questa si è trasformata nella io l'ho visto al vivo Robert Downey Jr no era andato a fare non mi sembra non lo so così a occhio non mi sembra così mastodontico come potrebbero essere gli altri 1,74 esattamente alto quanto me ma secondo me gli mettono i tacchi quando gira perché per non farlo sembrare troppo più basso perché ragazzi nel senso non sembra così basso tanto più basso io non so se lo seguite su Instagram io una piccola parte di fitness che in me non è ancora morta segue Chris Semsworth soprattutto per le cose che fa a livello fisico è davvero gigantesco ma poi scusa se ci pensi questi nella vita a parte cioè a purato che sanno recitare no e sono comunque ottimi attori questo lo sappiamo nonostante i film che facciano sapete le mie idee però sanno recitare questi nella vita che cazzo devono fare devono tenere cura del loro corpo cioè parte del loro lavoro però per esempio però per esempio Mark Wahlberg è uno di quelli più famosi per quanto riguarda la sua routine perché comunque per avere quel fisico devi allenarti 5 giorni a settimana ma Mark Wahlberg non sa recitare però però al di là di questa tua opinione però il discorso è che Mark Wahlberg è famoso per avere una routine molto particolare perché ne parla spesso Mark Wahlberg sveglia alle 4 del mattino per potersi allenare prima che inizi la sua giornata cioè lui è molto religioso quindi sveglia alle 4 del mattino prega fa colazione poi fa allenamento per 2 ore circa alle 6 del mattino ha finito rifà lo spuntino dopo l'allenamento alle 7 inizia la sua giornata e che fa durante la sua giornata si allena che fa se deve andare no allenare si è già allenato quindi si deve andare che ne so sul set va sul set se deve andare a fare un'intervista va a fare l'intervista se deve andare a fare un incontro con una produzione fa un incontro con una produzione insomma fa tutta la sua giornata che alla fine è quella che facciamo noi studio quando non abbiamo da fare un set c'è da organizzare una cosa vederne un'altra seguire il montaggio di un'altra cosa però lui si alza alle 4 del mattino e alle 7 va a dormire perché il giorno dopo alle 4 si deve svegliare quindi diciamo che è un po' quello lo stesso vale per The Rock se avete mai parlato con qualcuno che cioè io ho parlato con varie persone che hanno lavorato a film in cui lui partecipava lui da contratto c'ha che la mattina prima di andare sul set va in palestra per essere gigantesco quindi tu pensa noi per stare in studio alle 10 ci svegliamo tipo alle 9 completamente incoglionite incazzati ragazzi quando arriviamo in studio tutti fra le 10 e le 10 e mezza io lo ammetto non arrivo mai in studio prima delle 10 e mezza tranne che sia strettamente necessario per motivi lavorativi e allora perché il problema è che se io esco di casa alle 10 ci metto mezz'ora se io esco devo arrivare in studio alle 10 devo uscire di casa non mezz'ora prima ma più di un'ora prima perché il traffico è proprio fuori di testa il paradosso del traffico esatto quindi arrivo in media alle 10 e mezza e ogni mattina è le catombe perché c'è Matteo quando arrivo prima c'è Matteo fuori che fa colazione che tenta ancora di svegliarsi Marco Cioni che ancora non si è svegliato bene e per svegliarsi c'ha Stiraptus che comincia a pulire a destra a sinistra butta cose Marco ma quello ci serviva e lui l'ha già buttato cioè è un'ecatombe là dentro la mattina presto invece questo ai 7 io forse domani mi tocca fare la stessa cosa perché questa settimana non sono riuscito ad andare in palestra per niente quindi forse domani mattina mi tocca andare in palestra ma io non so come fate non capisco per poter per poter venire poi in ufficio alle 10 forse mi tocca comunque gli attori fanno questo genere di vita soprattutto anche gente tipo Ryan Reynolds ma per trovare questo tizio per loro è stato complicato che cazzo hanno fatto cioè si sono messi nel senso loro sono partiti dal pool degli stuntmen perché doveva fare un combattimento quindi sono partiti dal pool degli stuntmen e non hanno trovato nessuno perché sempre con questo motivo ovvero gli stuntmen solitamente non sono giganteschi ci sono quelli giganteschi però devono essere abbastanza agili quindi non sono alti un madre 90 solitamente sono alti al massimo un metro 80 e non hanno il corpo particolarmente fisicato sono longilinei esatto dipende per carità dipende volevano trovarne uno però il discorso era noi trovavamo uno abbastanza massiccio da far risultare Ryan Reynolds un ragazzino era un po' difficile e quindi dopo aver visto questa roba si sono subito rivolti al mondo del bodybuilding e comunque questo Aaron Reed alla fine è abbastanza conosciuto come bodybuilder e hanno trovato un androlone esatto col fisico abbastanza invidiabile cioè comunque un uomo gigantesco ma sai ti dirò io parlando completamente dall'altra parte io onestamente non invidio quel tipo di fisico c'è l'autorale è un lavoro io mi ricordo di aver visto un'intervista a un bodybuilder che diceva io quando mangio non mi dovete parlare perché io sto lavorando in quel momento cioè quando mangio io sto lavorando e no 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 zio deve assumere dalle 4000 alle 6000 calorie al giorno sono tantissime zio calcola che mi ricordo che ne parlava come si chiama school musical tizio lì ragazzino Zac Efron Zac Efron ne parlava Zac Efron diceva quando ho dovuto fare Baywatch dovevo mangiare talmente tanto pollo per mettere su massa che non riuscivo più a mangiarlo quindi lo frullavo e lo bevevo perché non riuscivo a ingerirlo era troppo troppie calorie al giorno come diceva il botto ha fatto il frappollo esatto il frappè di pollo comunque no non invidio a parte la gestione che deve avere il tuo fisico per mantenerlo di quella stazza non lo invidio però cioè io vorrei un po' più di corporatura perché sono proprio particolarmente esile ma quel tipo di fisico è l'ultima cosa che vorrei nella vita cioè proprio troppo cioè dai come te muovi cioè te muovi così non puoi ti dico metti le braccia lungo il corpo e non posso capi ci sono alcuni però ci sono alcuni che sono molto agili nonostante dipende dal tipo di allenamento che fai sicuramente perché frullato è meglio perché frullato è meglio ciao Maurizio comunque dicevamo hanno trovato questo tizio e come abbiamo raccontato nel video praticamente lui guarda quello sono io no è Ryan Reynolds perché ci hanno messo la faccia con quel macchinario pazzesco che abbiamo sempre messo nel video questo egg no questo uovo è una domanda complessa perché alla fine il problema dell'head replacement è proprio quello cioè che è difficile il problema della CGI è che ho una cosa completamente CGI ho una cosa è completamente vera mischiare le due cose mettere la testa di qualcuno sul corpo di qualcun altro tranne in situazioni molto 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 controllate non è facile e infatti in questo caso hanno dovuto fare questa cosa assurda scusate lo sbadiglio questa cosa assurda in cui no con le lucine led nel leg gli facevano spostare lo sguardo col tempismo esatto di come doveva succedere poi se voi ci pensate questa roba di avere una serie di led che possono ricreare esattamente la luce la stessa luce che c'è fuori cioè sarebbe stato l'alternativa era farlo lo volevano fare l'alternativa era farlo con un motion control ok però Sean Levi che è il regista che tra l'altro è il il regista di 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 Cosoli di di Una Notte al Museo e il produttore di Stranger Things ha detto io non voglio fare non voglio fare il motion control perché è dispendioso a livello di tempo cioè devi fare un'inquadratura la fai l'hai fatta perfetta leva tutto rimetti Ryan Reynolds rifai la stessa identica inquadratura con la testa ogni inquadratura la devi girare due volte no ma poi come sempre quella cosa un po' cioè così è più vero nel senso va bene che hanno avuto un panico di lavoro per il discorso faccia però c'è l'attore Ryan Reynolds viene proprio afferrato viene proprio lanciato viene proprio tirato da una parte senti qua c'è una domanda interessante non so abbiamo mi pare che abbiamo studiato un pochino social network e ne abbiamo già parlato perché anche per i gemelli Winklevoss hanno fatto più o meno la stessa cosa o no se non ricordo male lì era un misto di tecniche perché c'era l'attore era sempre uno che li faceva tutte e due e a volte gli hanno rimpiazzato la faccia a volte hanno usato la controfigura se non ricordo male o no lo so di una cazzata però mi ricordo che era una cosa del genere allora sicuramente è una situazione molto più controllata nel senso che in the social network hanno usato tante tecniche diverse hanno usato il motion control hanno usato e solo per alcune inquadrature molto specifiche tipo quella magari in cui sono nel corridoio e quella quando parlano al rettore parlano insieme sono fermi e notate in quella del corridoio uno dei due gemelli Winklevoss ha un cappello molto specifico che gli delinea i lati della fronte e inoltre è un'intera testa rimpiazzata su un corpo mentre quello che succede in Free Guy è solo la faccia è che la faccia dentro una testa diversa che non è che non è facile è un po' face off e l'altra cosa l'altra cosa che avete scritto era non hanno fatto la stessa cosa in Terminator Salvation no Terminator Salvation è completamente CGI Sparsenegger la versione giovane di Sparsenegger è completamente in CGI e l'hanno potuto fare perché hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto in Logan in Logan succede la stessa cosa quando Hugh Jackman combatte contro la versione di Wolverine più giovane e lì sia Terminator Salvation che che Logan hanno il vantaggio che questo personaggio ha un'espressione completamente ferma e quindi che poi tra l'altro in Terminator Salvation tu vedi che Schwarzenegger per tipo due secondi perché poi immediatamente si combatte con se stesso ovviamente quasi subito praticamente perde cioè diventa il Terminator robot diventa solo lo scheletro in pratica perché lì giustamente per il tempo e la CGI all'epoca hanno detto magari ce lo accolliamo ma ce lo accolliamo per qualche secondo quindi cerchiamo di eliminarlo immediatamente io mi permetto di salutare Caruso Pascoschi che per la prima volta dice ma buonasera perché Caruso Pascoschi è un nome che conosco molto bene e che adoro magari ci dirà lui se ha voglia perché penso che per forza è il nome preso dalla stessa cosa che penso io ma aspetto che lo scrive lui che è più carino quindi detto questo tra l'altro volevo dirvi che l'head replacement di The Social Network l'ha fatto esattamente la stessa compagnia ovvero la Lola VisualFX che ha fatto poi la faccia di Free Guy quindi sono esattamente la stessa compagnia che da dieci anni si stanno specializzando in questa specifica cosa di fare eh ma si farà molto più spesso io tempo fa avevo sentito parlare a parte che è uscito pure uno spot con come si chiama quell'attore la grande fuga mica solo della grande fuga dove praticamente quest'attore ha fatto uno spot da morto James Dean James Dean se ne è parlato parecchio però quella è una ricostruzione completa nel senso che si tratta no Steve McQueen scusa grazie Mirac Steve McQueen Steve McQueen scusa mi ho detto James Dean perché la stessa cosa stava succedendo anche a James Dean se non ricordo male c'era una cosa simile che doveva succedere anche con James Dean sì poi c'è ovviamente di questa cosa se ne parla da tempo perché la tecnologia è arrivata a quel livello in cui tu puoi fare recitare pure persone che appunto non ci sono più e quindi poi parte tutto il discorso etico morale anche sul fatto che dato che in questo modo puoi far recitare un po' chiunque forse dell'attore ne puoi anche fare a me in alcuni casi ovviamente è una cosa che non si farà mai però diciamo che aiuta tantissimo a non solo in questo caso è molto ludico come effetto mettere la faccia di Ryan Reynolds su un altro tizio gigante però immagino che sappiamo che questa tecnologia viene anche utilizzata magari per mettere la faccia di attori protagonisti su altre persone in altre situazioni magari sono un po' più pericolosi eccetera eccetera Gennaro Mannaro dice come ha fatto in Carrie Fisher in Star Wars no i Rogue One che è completamente digitale no no quella non penso in quella in la versione nell'ultimissimo film in cui lei era già deceduta comunque non vogliono fare un film con James Dean dice Lupotto 88 esatto tra quello che mi rinno no no un intero film in c'era questa idea per fare un intero film con James Dean vivo cioè morto insomma avete capito e sì per esempio c'è come si chiama lo spin off di Fast and Furious Hobbs and Show lì per quasi tutte le scene d'azione esagerate non è mai The Rock Face Replacement però quella esatto quello lo vedi talmente velocemente che non è però è Face Replacement quella addirittura Head Replacement probabilmente il problema è lì che la nostra testa inizia a farci degli scherzi perché siamo abituati a vedere le persone parlare io questa cosa ne parlo spesso perdonatemi se mi ripeto però magari ci sono sempre delle persone nuove il cervello umano si è evoluto più di ogni altra cosa per non riconoscere l'emotività ok per interagire siamo una specie particolarmente siamo un tipo di animale particolarmente sociale e quindi il nostro tutto il nostro punto sta nel fatto che ci riconosciamo parliamo tra di noi capiamo che emozioni proviamo e lo sappiamo fare molto bene e questa nostra caratteristica ci rende molto molto difficile riprodurre le emotività facciale perché immediatamente ci rendiamo conto che è finta perché c'è qualcosa nel nostro cervello che si è evoluto per riconoscere questa roba Luke Skywalker in The Mandalorian anche lì è uno strano misto di un attore vero vero con poi sì a volte prendono anche rimanenze rimanenze di girato cioè robe che rimangono lì come è stato per il gladiatore per esempio lì è un po' montaggio un po' ti ricordi no? c'è anche un come cazzo hanno fatto sull'attore del gladiatore che è morto improvvisamente durante le riprese ancora dovevano chiudere una scena e un po' col montaggio un po' con gli effetti speciali dell'epoca sono riusciti a tirare fuori la scena adesso sarebbe molto più semplice ci metti in altro e gli cambia faccia sì non è una cosa facilissima però sta diventando sempre più facile sicuramente stavo dicendo Luke Skywalker in The Mandalorian aveva il problema aggiuntivo che non so perché oggi non ricordo i nomi in live non ricordo mai io manco i nomi porca miseria dannazione come facciano ricordare il nome del di Luke Skywalker porca miseria ah l'attore Mark Emil Emil Mark Emil scusate oggi il problema di Mark Emil è che Mark Emil ha avuto un incidente tra il primo e il secondo in cui si è spaccato la faccia infatti se ricordate l'episodio 4 episodio 5 lui ha un volto diverso perché ha fatto un incidente in macchina e ha una grossa cicatrice in faccia quindi la difficoltà ulteriore di The Mandalorian era che non potevano usare Mark Emil ringiovanito ma dovevano fare riferimento a una versione di Mark Emil pre-incidente che esisteva quindi solamente nel episodio 4 cioè tutto un enorme panico bene su Free Guy cos'altro hai abbiamo detto ah c'era questa cosa della Vespa che mi ricordo bene che abbiamo che ho dovuto eliminare che praticamente avevano effettivamente una Vespa finta da far lanciare a Dude che era una una Vespa leggera e il punto lì era semplicemente che la regista Sean Levay voleva che il quanto più possibile fosse effettivamente materico fisico no prendesse qualcosa sì nel senso le cose devono essere il più possibile legate a qualcosa che si poteva si poteva toccare spostare perché perché comunque escono meglio cioè anche se poi si tocca rifare tutto il CGI e avere una reference reale sul set era sempre era sempre comodo non era una 50 special non ne ho idea però su quello che so non era una Vespa ma mi fa molto ridere è che durante le previsualizzazioni che hanno dovuto fare quindi hanno girato la scena prima di girare la scena per vedere come l'avrebbero montata e in uno di questi di queste versioni girate in maniera un po' povera il regista Sean Levay ha fatto il ruolo della Vespa cioè si è fatto la Vespa e ha fatto finta di essere la Vespa e questa cosa mi fa molto ridere era una era comunque una Vespa però non era proprio una Vespa 50 special è la diciamo scuterizzata ecco non so come dire cioè come l'hanno rifatta ultimamente stavo andando a vedere il video eccola qua era una Vespa scusami Andrea non avevo non avevo colto il tuo gioco di parole perdonami ah perché era una Vespa speciale e quindi questo io non so se volete passare a Coraline o Dunkirk perché Dunkirk abbiamo tagliato tantissime Dunkirk sì oddio io ho cercato di lasciare in Dunkirk il più possibile ma ci sono alcune che non l'ho mai detto eh partiamo dalle robe che non hai mai detto Dunkirk te lo vuoi tenere alla fine? sì come ultima cosa non ci rendiamo passiamo a Coraline se no magari parliamo tutto il tempo di Darking e di Coraline non passiamo non parliamo per niente vai Coralina cosa abbiamo tenuto io non l'ho rivisto scusatemi ragazzi allora di Coraline di base di Coraline di base abbiamo tenuto ovviamente tutta la parte del Coraline scusate perché il mio cervello continua a dire Coraline invece di Coraline abbiamo tenuto tutta la parte della della nebbia ovviamente che era la cosa più importante abbiamo tenuto ottenuto quella cosa fichissima del fiore ripreso con gli specchi quella è un'idea geniale è un'idea geniale di ingegno cioè proprio quella roba di non abbiamo il tempo di farlo come lo possiamo fare meglio ovviamente hai trovato anche il contributo in cui fa vedere sì 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 certo certo pazzesco ragazzi pazzesco ragazzi purtroppo c'è questo problema che ordinate andiamo molto di fretta abbiamo tante cose da fare quindi come cazzo hanno fatto Giovanni lo monta e io ero lì mai visti cioè non so se effettivamente siamo riusciti a come dire a se Giovanni ha messo le parti giuste del backstage di cui io parlavo perché ciao Gianluca non c'è sempre molto tempo per fare queste cose vanno fatte con una velocità pazzesca non riguardo più ragazzi ma perché allora quando mi rimontavo io un discorso ma voi immaginate quanto posso sentirmi la testa di cazzo io quando già passo passo tre giorni a studiare i film due ore a girare il come cazzo hanno fatto poi Giovanni lo monta e lo pubblica perché nel senso il discorso nel senso se io lo vedo prima che venga pubblicato è certo il tempo di vederlo lo vedo e dico ok va bene funziona non funziona c'è da cambiare questo c'è da cambiare quest'altro ogni tanto vado il tempo di farlo ma se il video ormai è pubblicato ormai è andata voi immaginate quanto mi sento stupido io a riguardare te stesso che per mezz'ora dico cose che già so che già sai ma c'è ah beh è interessante questa cosa che questo ragazzo con i Google sta raccontando perché la cosa che sarebbe utile se tu avessi il tempo di rivederli e io avessi il tempo di farteli vedere è che tipo perché tu te li sei studiati sai tutti i contenuti a speciale memoria io ci sei te che parli e poi mi vado a cercare le cose ma io non ho il tempo non ho i tre giorni che hai avuto tu di studiarti tutte le cose quindi devo prendere i contenuti speciali e andare avanti e indietro fino a quando non trovo le immagini comunque abbiamo parlato della nebbia poi abbiamo parlato abbiamo accennato il discorso dei costumi che era era molto figo il discorso dei costumi soprattutto quando devono essere animati no perché anche i costumi si muovono incredibile i vestiti si muovono e vanno animati pure quelli quello di cui abbiamo parlato è di come li hanno creati ecco ok però io vi dirò un'altra cosa che voi ecco non l'ho detta ho rosicato tantissimo di non averla detta ragazzi siete pronti anche io ti voglio bene rosso marpello mi piace molto il suo nome esatto bravo Nicola di Coraline la cosa che a me personalmente è più impressionato sono i capelli preparateli ad essere tutti quanti tutti ragazzi in chat vi voglio tutti molto marco cioni è così con il tonno di voce Coraline doveva avere dei capelli molto reali lei soprattutto i suoi capelli blu sono una cattelistica molto importante del personaggio di conseguenza avevano un'esperta di capelli che ha fatto tutte le parrucche vediamo se riesca a far vedere qualcosa che cosa che cosa significa che cosa significa ragazzi significa che ogni singolo capello doveva essere animabile a parte cioè nel senso doveva ogni singolo capello il che vuol dire che ogni singolo capello doveva essere in grado di essere spostato e una volta messo in posizione doveva rimanere fermo quindi ogni singolo capello è stato coperto con con della con della colla e quindi questo l'ha reso solido e malleabile ho sbagliato il giro è una roba hai sbagliato è sbagliato pezzo del sì 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 no perché ho premuto la freccia per andare avanti quindi eccolo qua ed è una roba ragazzi nel senso c'è ogni singolo capello di coralline è ma lea c'è ragazzi è una roba come li coloravano pure c'è è una follia ragazzi il fatto che ogni singolo capello sia 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 animato a mano sia sia c'è una scena mi ricordo c'è un inquadruta specifica nel quale lei si affaccia dal dal per guardare sotto il letto il letto e ci sono tutta questa sua massa di capelli che va verso il e poi lo fanno a ciuffi immagino cioè non proprio capellino per capellino sì ok lo fanno a ciuffi però il discorso è che i capelli sono singoli ah beh certo li hanno attaccati uno per uno no non solo sono separati sono attaccati uno per uno e sono separati quindi volendo possono essere animati uno ad uno poi ovvio che quando li vai ad animare gli animi ciocca per ciocca però cioè è una follia cioè ogni singolo capello è fatto di o capello vero a seconda del caso o capello vero o nylon o seto insomma a seconda di quello che doveva succedere però era poi ricoperto di questa colla per renderlo effettivamente solido perché se no poi appena lo lasci fa come i capelli veri però io non lo so perché ecco qua si sta vedendo che lei attacca i peli tipo uno per uno però non lo so io non intanto grazie a giusto per aver donato 50 euro e dice volo a Milano da Londra per venire a vedervi al cinema sto in fissa voi che siete grandi grazie Giulio credo giusto dovrebbe essere Giulio Giulio giusto grazie mille sai cos'è ti stavo dicendo io non non la trovo una cosa particolarmente assurda c'è nel senso la trovo una cosa molto complicata molto laboriosa dove ci vuole sicuramente molta 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 e ancora molta pazienza ecco si sta vedendo la scena che dici tu dei capelli io trovo davvero c'è la stop motion è il tipo di arte cinematografica più più bella secondo me si richiede un tale impegno un tale amore una tale passione e produce un tipo di prodotto così singolare c'è una roba troppo bella però ti ripeto alla fine ti godi quanto siamo impazziti quando ci hai raccontato che per jack skeleton in nightmare before christmas per ogni micro movimento della bocca c'avevano una testa quindi questi sostanzialmente sostituivano testa sì sì metà bocca metà faccia era in un modo metà faccia era in un altro modo quindi lavoravano a metà in metà lì invece sostituivano tutta la testa siamo impazziti ovviamente cioè ti fa impazzire questo discorso però poi tu lo vedi il risultato in italiano siamo stati fortunatissimi perché c'è una voce di Renato Zero che è pazzesca in quel film quanto però quel lavoro micidiale che hanno fatto per anni adesso non ricordo 3 4 5 anni non so perché i film di stop motion ovviamente hanno un periodo esatto hanno un periodo di lavorazione molto lungo però quel film sarà eterno e quanto godi ogni volta che lo vedi cioè io mi metto nei panni di chi lo deve fare questa cosa non lo so fosse stato il mio lavoro l'avrei fatto cioè è con una fissa assurda io vi consiglio se vi piace questa roba guardatevi l'altra roba che ha prodotto la Laika che sarebbe la casa di produzione che è partita con Coraline facendo il primo film e ha fatto un film incredibile che è Cubo e la spada magica che è del 2016 che è pazzesco anche Paranormal è molto bello però in generale c'è la la stop motion secondo me allora mentre l'animazione in 2D è stata ormai sostituita dall'animazione tridimensionale perché si è passati anche se l'animazione in 2D rimane secondo me è bellissima c'è delle cose che l'animazione tridimensionale non può fare ovviamente però la la stop motion ha un una maniera così singolare di essere fatta che che non lo so se a me vale la pena tra l'altro infatti non vedo l'ora io non ho ancora c'è chi dice non ho ancora la possibilità di vedere Matt God che è il film di Phil Pippet ovvero il responsabile della stop motion animatore stop motion che ha fatto tutto quanto fino a poi ha fatto Star Wars ha fatto Robocop ha fatto tutto era il più grande dei grandi fino a che non è arrivata la CGI col T-Rex c'è uno che ti chiede rosso malpelo ma secondo te ha senso spendere così tanti anni per realizzare film in stop motion tu di la tua io dico la mia il problema è che no non ha senso è quello il problema cioè produttivamente parlando non ha senso è una è un tipo di cioè la nicchia di persone in grado di capire il fascino di questo tipo di prodotto e quindi supportarlo economicamente al cinema non è abbastanza grande da giustificare la quantità di soldi che c'è bisogno di spendere cioè per una quantità di soldi molto minore puoi fare un film in 3D che guadagna esattamente lo stesso numero di soldi perché chi va al cinema non si rende conto della differenza tra stop motion e 3D o meglio non è che non se ne rende conto se ne rende conto ma non ha la conoscenza per capire effettivamente e come scrive qualcuno come scrive ragazzo cane in chat è una forma d'arte ne vale la pena sì certo purtroppo però no il problema di queste forme d'arte che hanno bisogno di milioni e milioni e milioni di dollari per essere prodotte e che inevitabilmente finiscono ad essere anche dei prodotti commerciali e quindi sì è una forma d'arte però è una forma d'arte costosissima che ha senso di produrre solamente se c'è gente che lo va a vedere quindi è un peccato ma è un tipo di animazione che non ha nessun senso di esistere poi è il motivo per cui durano poco comunque o comunque durano meno di un film di animazione normale perché per esempio Coraline dura a stento 100 minuti che è un'ora e mezza è un film del 2009 quindi già all'epoca all'epoca ed è pure troppo perché in realtà il libricino l'hanno dovuto espandere perché il libricino di coso di Neil Gaiman in realtà era molto più piccolo c'era abbastanza storia c'è Nightmare Before Christmas che se non sbaglio dura ancora meno dura un'ora un'ora ci trovano tutti intorno ai 90 minuti comunque massimo esatto e sono un po' più corti tra virgolette di un film normale adesso proprio per questo comunque il lavoro è assurdo poi non mi ricordo se l'abbiamo inserito nel video ma credo di sì il fatto che alla stessa scena ci siano molte persone che ci lavorano cioè che esistono molti cloni dello stesso set dello stesso set gli stessi pupazzi perché per poter fare in tempo una ventina di animatori contemporaneamente lavorano alla stessa scena facendo inquadure diverse ed è la cosa paradossale che mentre ecco in questo in realtà è simile a un film da animazione che però è una roba che noi non conosciamo noi siamo abituati all'idea del regista che dirige la scena esatto il regista si mette lì e dirige ogni singola scena mentre un film da animazione e nello specifico un film di animazione di stop motion ha una sorta di regista e sotto regista che sono gli animatori cioè il regista ha un'idea generale di come deve andare tutto il film ma ogni singolo animatore ha la sabita registica sulla propria inquadratura e quindi è è una è una roba insomma comunque come giustamente fa notare Webby Lovat che è ovviamente un appassionato di Coraline perché è il nome di uno dei personaggi di Coraline Mr. Link che è l'ultimo film prodotto da Lyca è stato un flopone con 100 milioni e ha guadagnato in 26 e c'è nel senso ragazzi cioè non è che poi tra parentesi per esempio fai questa roba ma senso dal punto di vista produttivo ragazzo non è che non ha senso per me io l'adoro la stop motion però mi viene senso dal punto di vista produttivo però mi viene da pensare una roba come un film d'animazione che comunque ha tanti anni di lavoro ci sono tanti costi però ne abbatti tanti altri cioè non hai non hai gli attori per esempio cioè però c'è gli attori ho capito però non ce li hai cioè se tu pensi che per l'ultimo per Endgame Roberto Junior si è pippato 73 milioni di dollari cioè è solo lui non è che comunque devi cioè in cubo la spada magica c'è il Matthew McConaughey che comunque i soldi si li sarà presi sì ma non si prendono gli stessi soldi no sicuramente perché per esempio il budget di Coraline o Coraline come cazzo si chiama sono 60 milioni quindi è un budget di un film medio americano diciamo così cioè non è neanche un budget di un grossissimo film americano è di un medio film è del 2009 quindi rapportandolo adesso sarebbe forse poco meno del doppio e come per esempio Nightmare Before Christmas qua vedo scritto ne costato 18 però Nightmare Before Christmas è ancora più vecchio quindi adesso sarebbe costato sempre 70-80 milioni sono costi molto alti Manfred Nase dice adesso Giovanni non si sa come ti ha spesi quei milioni ho usato un termine inappropriato ma avete capito sono costi molto alti che però ti permettono non lo so cioè Coraline ancora non l'ho visto devo vederlo Nightmare Before Christmas sono anni di lavorazione però boh non lo so cioè per me ne stravale la pena per fare questa roba ne stravale la pena poi bellissimo ragazzi bellissimo e poi per usare animazioni in stride out è costato 685 milioni Walli che il 2008 è costato 180 milioni ma quello non è il è un altro tipo di animazione ragazzi è un'altra storia cioè è un'altra cosa tutto 3D si parla della Pixar cioè app poi ne cosa hanno tutti più o meno lo stesso prezzo costo app 175 ratatou 150 alla ricerca di Nemo è quello che è costato un po' di meno 94 però ci hanno dei budget è il tempo il tempo in cui ci stanno a produrli è veramente esagerato cioè ci vogliono diversi anni non si parla di settimane di ripresa ovviamente ma si parla di tanti anni di produzione che poi tirano fuori questa roba in maniera molto cinica mi è da dire per chi ci lavora o stipendio o pigliano cioè quelli pagano non è che non gli pagano quindi no il nicola dc dice dal punto di vista del costo quindi non è proibitivo semmai che invece di incassare un miliardo incassa 100 milioni il problema è un punto è proprio quello cioè dal punto è una questione di ovviamente non è spesa ricavo è costo ricavo nel senso i film della pixar possono costare quella maniera perché sono come i film di supereroi cioè hanno quella quella quantità cioè ogni volta esce un film della pixar tu lo sai lo vai a vedere un film d'animazione solitamente se è un film minore ha molta mera visibilità perché la gente porta i figli a vedere al cinema solamente i film famosi i film d'animazione quelli famosi tipo quelli da pixar poi la pixar ha fatto la mega furbata che è diventata no la la casa di produzione che fa film d'animazione per contemporaneamente bambini e adulti e quindi raddoppia la propria quantità di il proprio proprio bacino d'utenza però il discorso è che anche l'isola dei cani è un film bellissimo ed è di stop motion ed è stupendo ed è costato molto meno 30-35 milioni però è una roba no molto specifica cioè Wes Anderson che dice voglio fare il mio nuovo film e quindi 30 tanti 35 milioni per Wes Anderson tra l'altro sono abbastanza e quindi il discorso ecco è veramente un'arte molto molto bella però inevitabilmente è un'arte di nicchia che si può fare solo quando si presenta l'occasione quanto è incassato Coraline all'apertura è incassato 16 Coraline all'apertura è incassato tra l'altro quindi ogni fotografia è la doppia nel senso è incassato in totale worldwide è incassato 124 milioni che pensando che non hanno spesi 60 siamo siamo lì siamo su quello giusto se prendi il marketing poi insomma siamo su giusto è incassato è il giusto ma non ha fatto il botto ecco non ho tanto perché tutti amano e che molti hanno visto e che immediatamente ti dice ah ok quel film quello famoso si me lo ricordo però non hanno visto in tanti diciamo che chi fa stop motion sicuramente non vuole ricoprire i costi di produzione di 100 volte oppure quelli gli stessi che ci lavorano non sono di quel gruppo di persone perché ne esistono ovviamente nel mondo del cinema che vogliono fare un film dopo l'altro e quindi dicono hanno bisogno ci sono un sacco di persone che vogliono fare magari si cercano film o accettano film dove ci sono poche settimane di lavorazione perché poi passano un altro progetto e poi un altro poi un altro una roba del genere piglia 3-4 anni è la tua vita e quindi devi essere uno che diciamo si presta a questo tipo di produzione ovviamente che poi è tutto collegato perché se fai questo tipo di cose si vede che vuoi fare questo tipo di cose e quindi sei d'accordo col fatto che ti prendono 4 anni è la vita io veramente io non vedo l'ora di vedere Matt God appena appena sarà disponibile non vedo l'ora comunque vi dico un top di cose di Coraline che se no se non le dirò oggi non le dirò mai più allora beh insomma nel pupazzi come sono fatti che hanno lo scheletro abbiamo già parlato molto molto spesso il corpo spesso è fatto di silicone perché è un materiale particolarmente manipolabile la testa abbiamo parlato di come è fatta insomma le due parti del viso per essere animate singolarmente sono stati tagliati il team money eh il team money si l'abbiamo accannato ok il team money è il team che crea centinaia di mani ogni singola mano ha un'anima di fil di ferro e delle giunture alla altezza del polso perché c'è un intero team che fa solo le mani perché essendo le parti più piccole del pupazzo ed essendo quelle che si devono muovere di più perché le dita si muovono molto molto frequentemente per essere per dare vita al personaggio animato si devono muovere molto devono essere fatte centinaia di mani perché ogni inquadratura gli animatori consumano da uno a tre paio di mani quindi sì oltre al team nebbia c'era anche il team money perché le mani si rompono cioè si muovono talmente tanto che per fare ogni singola inquadratura vanno via da un paio quindi due a tre paio ovvero sei mani quindi effettivamente pensarci è pazzesco soprattutto la cosa che mi viene in mente sempre quando si fanno questi lavori se questi reparti escono fuori magari in pre-produzione oppure escono fuori mentre lavorano cioè perché magari mentre animavano il pupazzo e la mano si rendevano conto che oh cazzo ho fatto tre foto ho fatto tre frame e già la mano mi si è spappolata me ne serve un'altra è quella la cosa che mi risulta un po' più curiosa cioè se ne sono accorti strada facendo o se ne sono accorti c'era una cosa che hanno pensato da subito essendo loro di mestiere una cosa che sai nel senso che sai che purtroppo le mani sono materiale a consumo si rompono e le devi rifare e invece la della scena dei fiori no? che abbiamo visto quella lì dei dei fiori che spuntano qual'era una delle occasioni però la 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 scena in cui crescono i fiori è stata complicata in generale e ce n'è ce n'è c'erano varie tecniche alcuni erano per esempio c'erano questi vari set con il giardino in alcuni c'erano dei erano fatti di fibra ottica e quindi praticamente da sotto il set potevano fisicamente spingerli e questi fiori uscivano dal terreno e si aprivano e il fatto che fossero fatti di fibra ottica faceva in modo che potevano essere illuminati da dall'estremità facendo questi fiori luminescenti che poi sono quelli magici del mondo di Coraline e invece c'è una un'edera a un certo punto che cresce lungo questo pavimento fatto di San Pietreni e quello era un panico perché è una roba complicata animare questa roba complicata debo non rendere davvero l'idea effettivamente sì però insomma è molto complesso fare questa questa edera che cresce lungo questi San Pietreni quindi che hanno fatto l'hanno fatta al contrario ovvero l'hanno a livello di animazione ovviamente quindi l'hanno messa tutta lì dove era e poi l'hanno distrutta quindi pian piano l'hanno hanno tolto un fiore hanno alzato leggermente un pezzettino di ramo eccetera 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 perché erano fatti di ottone se non ricordo male insomma era materiale malleabile metallo malleabile e quindi l'hanno pian piano distrutta quest'edera che cresceva su questi su questi San Pietreni e poi mettendola in reverse invece sembrava che si uscissero si stesse creando quindi insomma queste sono tutta una serie di cose che hanno fatto percorrere una porta magica che è davvero un film molto molto bello e estremamente poco estremamente poco è una bella terminologia poco per i bambini perché è proprio un film che ti fa venire gli incubi la notte c'è l'altra madre con gli occhi a bocce ragazzi se non l'avete visto guardatelo perché è un film di un'inquietudine rara ma tutte le favole lo so un po' è però a confronto cosa lì come si chiama Nightmare Christmas è un film coccoloso a confronto di Coraline cioè Coraline è proprio mega creepy cioè è una roba terrificante giustamente come dicevo e beloved le favole originali sono pure horrorifiche sì noi siamo cresciuti con le favole che ci ha raccontato la Disney che sono la maggior parte delle favole dei fratelli Grimm che si è andata a trovare in originale nei libri sono tremende cioè che ne so dita mozzate per le sorelle di Cenerentola la sirenetta che more e diventa schiuma di mare no tutta una serie di cose le favole comunque sono horror ne abbiamo già parlato di questa cosa che hanno sempre un diciamo un'anima horror perché molto spesso intanto c'è un ride di Gianni di Johnny Barzon no Johnny Barzon sei scritto serial hunters ha fatto un ride e ti sei visto tu che saltellavi Mauro cioè la tua animazione è il tuo pazzo grazie perché principalmente le favole venivano utilizzate nascono tra virgolette come monito per i bambini no cioè ai bambini che si allontanavano troppo per non farli allontanare da casa gli raccontavano la favola di Ansel e Gretel con la con la strega che c'era la casa dei marzapane eccetera 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 servivano principalmente a questo le favole e poi sono state riprese e tramutate come ben conosciamo comunque Mauro piccola cosa cioè alla fine la stop motion è la la summa diciamo di quello che diciamo sempre un po' il fatto che il cinema sia letteralmente artigianato beh sì credo che i film di stop motion siano proprio l'apoteosi di questo è troppo una roba ragazzi è bellice è proprio una delle robe che mi affascina di più perché allora intanto ciao rockbuster grazie per la maglietta che ho scartato stamattina ti devo fare vedere alla mia collezione di magliette guarda che mi ha regalato David ah il batarang bellissimo bellissimo no allora la stop motion è stata una delle prime cose che mi ha fatto innamorare del del concetto di fare cinema il mio primissimo cortometraggio l'ho detto pochissime volte il mio primissimo cortometraggio nel senso che non era un cortometraggio era il primo esempio di roba che ho fatto era una stop motion avevo questo grosso anzi mio fratello piccolo avevo questo grosso pupazzo di batman di Sam Raimi che era tipo alto così era proprio grosso era di una roba tipo 40-50 cm ed era completamente snodato aveva anche le giunture delle dita quindi era era incredibile era pazzesco e io ho appena visto Maybe for Christmas ed ero impazzito e quindi con questa piccola kodak compatta grande così che faceva era no non ricordo forse una kodak non ricordo era una macchetta fotografica del cazzo che mio padre usava per per fare le foto delle vacanze e ho detto Batman di Raimi forse Spider-Man ragazzi scusatemi sto completamente esaurito Spider-Man di Raimi sono stupido dicevo questa piccolissima compatta con non so perché mio fratello non è mai fregato un cazzo di Spider-Man però aveva questo gigantesco papazzo di Spider-Man probabilmente un regalo di Natale o di qualcosa del genere e niente ho fatto questa era Spider-Man che salvava Topolino dall'essere investito da macchia nera che c'eva la sua macchina perché ho donato i giocattoli che ci avevo ci avevo in in saccoccio ci siamo persi una signora donazione no l'ho letta ma non volevo interrompere Mauro perché sui video che vengono ricaricati sotto la regina degli scazzi sui video che vengono realizzati che vengono ricaricati su YouTube alcune volte mi accusano di interromperti quindi io non volevo interromperti no no chiunque stia guardando questo video indifferita eh dai su di pietà per Giovanni io ti interrompo tutte ste cagate quante volte lo interrompo io quante volte gli rompo le palle non lo faccio mai parlare poverello comunque grazie alla regina degli scazzi per questi 120 euro e ti aggiudichi così un biglietto a due anteprime quindi due biglietti sì perché adesso ah tu non ti hanno comunicato non lo so adesso dato che è aumentato ovviamente no la capienza al cinema addirittura siamo arrivati al 100% in pratica la capienza al cinema abbiamo avuto la possibilità di avere più posti e quindi sono due biglietti sono cinque adesso un biglietto e 50 euro cioè un biglietto in realtà non è un biglietto è un ingresso grazie mille ci vediamo al cinema per il cortometraggio che dirigerò questa cosa è molto strana da dire sarò molto molto contento ci vediamo al cinema un altro ride di a tavola col nutrizionista 17 persone buonasera ragazzi comunque la regina degli scazzi dice per spostare il limite della creatività ancora più in là buon lavoro cani ci si vede a Milano figa per già lo facciamo tutta così lo ridoppiamo lo ridoppiamo il cortometraggio esatto è per questo è un gameboy figa è fichissimo è per i biglietti i posti sono la regina degli scazzi e i caruele che dice appunto per già confermiamo il nostro fallimento non siamo riusciti a fare due donazioni separate quindi lei ottimo ha donato 120 euro grazie buono così vai finisci che poi parliamo di Dankir che alla fine non stai parlando di Dankir prima di questo bellissimo cortometraggio grazie di averci fatto fatturare tutti i soldi necessari per realizzarlo presentiamo il cortometraggio così a Milano così c'è mena ma va benissimo io sono abbastanza convinto che questa nostra imitazione del milanese sia l'equivalente delle imitazioni del romano di A.O. certo di bofamo daie daie forte quando no cercano di imitare il romano e sono tutti molto non so capaci molto molto rigidi e non capaci oppure che ne so quando non so come io essendo pugliese però non viene in mente come imitano il pugliese solitamente le persone non ne ho idea qual è il te perché devi imitare il napoleano fai se devi imitare il siriano fai parlano come ah ok come lino Banfi è vero che non nessuno parla così in Puglia ovviamente non so se lo sapete che cosa alonando ah Trimun e tra l'altro tramone è un'altra cosa molto specifica di Bari nel resto della Puglia non si dice infatti quando si deve imitare i pugliesi si imitano solo i baresi credo beh sì i baresi sono un po' tra l'altro questo grave problema saluto i baresi anche in Francia quindi Mauro parliamo un pochino dai questa volta d'altronde se Parigi avesse il mare sarebbe a Bari come dicono come dicono a Bari a Bari me è vero me pure parliamo un pochino di questo Dunkirk perché se no poi si arrabbiano tu non vedi l'ora minchia ma no sai ti ripeto il mio problema con Dunkirk è che non lo so è spettacolare ovviamente mastodontico come solo Cristoforo Nolan sa fare quello senza dubbio però l'ho trovato tremendamente palloso ma lasciamo stare il mio giudizio rivederlo perché facevo caso io ho una terribile malattia non seriamente ovviamente non ho davvero una terribile malattia un modo di dire nel senso che ho una pessima abitudine e che solitamente disdegno un po' la il rewatch ok nel senso che escono talmente tante cose nuove ogni volta o c'ho talmente tante cose nuove da vedere che mi impegno sempre a trovare qualcosa nuova da vedere e raramente riguardo le cose che ho già guardato il che è un peccato perché spesso è perché spesso una cosa la apprezzi tanto di più quanto più la guardi cioè è difficile che tu coni delle cose che alla prima volta esatto e purtroppo spesso ci sono tanti film che ho visto una volta sola anche perché per esempio The Dark Knight che è uno dei miei film preferiti di Nona come di tutti quanti sarò banale e finché avrò visto una cosa tipo trenta volte e ogni volta che lo guardo me ne innamoro di più e all'ossessuale del Signore degli Anelli ed anche il che l'ho visto l'ho visto una sola volta quindi vorrei rivederlo perché è un ricordo molto molto confuso e mi piacerebbe rivederlo Tenet sono contento che l'ho già visto due volte mi sono portato avanti io e Tenet pure l'ho visto due volte solo che la prima volta sono arrivato alla fine la seconda volta no ammazza no io quasi sempre quando riguardo un film mi piace di più quasi sempre è davvero difficile che guardi un film e penso ne ok anche perché vabbè è davvero difficile che guardi un film che non mi sia piaciuto quindi Dunkirk cosa c'era di assurdo abbiamo raccontato abbiamo raccontato il molo l'abbiamo tenuto sì il molo non potevo non tenere il molo anche perché non l'ho trovata onestamente una cosa così folle onestamente personalmente non l'ho trovata una cosa così folle anzi mi avrebbe fatto strano in quel periodo un molo in muratura quindi non l'ho trovata così strano quello che mi ha fatto un po' rosicare è stato il fatto che ovviamente lo trovavano sfracellato e lo dovevano rimontare poi però mi sono ricordato che Troy di Wolfgang Petersen hanno fatto esattamente la stessa cosa perché hanno costruito tutto quanto il set delle mura di Troia arrivata non mi ricordo quale cazzo di tifone che ha sbaragliato tutto e l'hanno ritirato su intanto lo sapete che c'è io ho avuto nel momento Nolan non vi spoiler troppo però li racconterò con calma però ho avuto il momento Nolan nel corto c'è una cosa che si poteva fare in digitale e che invece stiamo facendo fisicamente stiamo rifacendo rifare solamente per poterla avere quell'unica inquadratura che ci serve invece che in CTI credo c'è una sola inquadratura con degli effetti con degli interventi in CTI io sono molto la primissima inquadratura del corto la primissima inquadratura del corto avrà un intervento in CTI il resto tutto zero io sono molto fan delle cose fatte dal vero le preferisco tantissimo si percepisce quando è vero ed è il fascino di Dunkirk per esempio il fatto che sia tremendamente materico si vede ti permette determinate inquadrature e determinate cose che non le puoi fare per esempio il fatto che gli aeroplani siano veri quello secondo me si percepiva durante il film infatti una delle cose che mi ha fatto infatti ho detto cazzo questi c'erano gli aerei e infatti poi me l'hai confermato che c'erano gli aerei questo gravissimo errore di sbagliare il nome del del presidente della Roma perché la persona che ha dato gli aerei Dan Friedkin è anche il presidente della Roma ciao e giustamente dato che tu non sei un appassione di calcio quando poi abbiamo deciso dove mettere il nome abbiamo ovviamente sbagliato e quindi abbiamo eh ragazzi purtroppo lo svantaggio di avere di avere Giovanni io calcio zero a stento riconosco Totti si Totti lo riconosco poi tutti gli altri cazzo non so chi sono comunque stavamo dicendo quindi il mollo l'abbiamo messo abbiamo messo non abbiamo messo perché tu non hai ancora raccontato una cosa che però sanno pure i muri il fatto che c'erano le comparse dei cartoni sulla spiaggia ma infatti adesso ne parliamo praticamente ce le abbiamo qui sulle spiagge ci ho scritto le comparse sono centinaia ma quelle sul fondo sono cartonati dipinti a mano esatto praticamente hanno ehm fatto questa serie di fotografie a dei delle persone in costume dopodiché le hanno stampate su questi cartonati che potevano poggiare lì dietro e a quel punto li hanno dovuti colorare a mano perché erano perché erano in bianco e nero ora se voi mi chiedete per quale motivo non li hanno stampati già colori non vi so rispondere non so se è una limitazione tecnica o se per farli meglio però so che sono stati stampati in bianco e nero e poi colorati a mano quindi sono questi questi enormi cartonati che stavano lì sul fondo per per cercare di dare l'idea di riempire tutto ed evitare di forse era finita la cartuccia del colore forse sì può essere quando finisce il nero che stampa in blu così per vedere cosa succede e invece anche il reparto costumi non è stato facile perché le uniformi sono circa mille e sono tutte quante costruite da zero non sono stato possibile non è repertorio le uniformi dell'epoca quindi qual è il problema di quando fai le uniformi fatte da zero e che poi le devi rovinare come se fossero davvero usate eh certo perché e quindi venivano prima bagnate poi venivano bruciate con una fiamma ossidrica per far restringere i fili di la nuggine che c'era sui vari sui vari cappotti e a quel punto venivano spazzolate con delle spazzole molto dure per strappare sì sono le spazzole quelle di ferro con le punte di ferro i chiodi addirittura a volte sono le spazzole chiudate si chiamano credo esatto qual è stato il problema è che per quanto il film fosse di Christopher Nolan e per quanto Christopher Nolan non è certo uno che va scusatevi al risparmio sarebbe costato scusate decisamente troppo non so come ci vado domani mattina sarebbe costato decisamente troppo fare tutte quante le divise da zero quindi le hanno fatte in realtà solamente 500 nel nel tessuto originale fatto così come doveva essere mentre il resto erano delle tute di cotone stampate cioè dato che il cotone lo si può lo si può lo si può stampare insomma immaginate le magliette che comprate di cotone con le stampe hanno stampato questi tutoni con le finte tasche le 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 finte bruciature le finte cose e queste erano cose che potevano indossare le comparsi che stavano sul fondo e quindi non hanno bisogno di avere dovevano fare solo una macchia no? in fondo esatto quindi oppure devono passare molto velocemente insomma quindi non le potevi non le potevi vedere bene la cosa mi fa più ridere però giovanni santonocito ora immagina di essere sulla vera spiaggia di dunker e di dover fare questo film immagini dover fare un campo largo dal momento in cui tu entri in campo a sistemare i costumi al momento in cui riesci effettivamente a uscire dall'inquadratura passa parecchio tempo quindi il discorso è che se io facciamo entrare i costumisti a sistemare le cose entrano sistemano 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 va bene che facciamo riuscire ci vogliono due minuti solo per far riuscire in modo da confondere uno di quegli impermeabili che ti metti quando piove dello stesso colore delle divise dei soldati in modo che non dovessero uscire dall'inquadratura loro semplicemente si nascondevano in mezzo ai soldati quindi non lo so questi assistenti truccatori che stavano lì a ripassare il trucco degli attori e delle comparse in scena poi semplicemente quando premevano rec si nascondevano in mezzo ai soldati e facevano finta di essere anche loro dei soldati però è utile metti che a un certo punto qualcuno urla tutti fermi qualcuno urla trucco e tu vedi 4-5 persone che poi in mezzo al nulla in mezzo a quel casino partono fanno delle cose che è motore tutti fermi di nuovo cioè è utile questa cosa lo stesso vale anche per tutto il reparto macchina da presa insomma tutta una serie di persone che rischiavano di essere viste in una maniera o nell'altra in realtà stavano lì semplicemente si nascondevano in mezzo in mezzo agli altri e quindi una cosa che mi fa molto ridere a volte le soluzioni più semplici eh sì è una soluzione perché se no in alcuni set quando ci sono le inquadrature così larghe e ci vuole tanto tempo perché si può parlare anche di diversi minuti si ha inquadrature molto larghe eh utilizzano dei mezzi cioè proprio portano il reparto tipo con le macchinette se possono farlo e poi vanno via con le macchinette così ci stanno meno tempo piuttosto che a camminare poi in spiaggia soprattutto difficilmente ti metti a correre o ti fai male o altro e quindi hanno fatto così e dice che hai fatto oggi mi sono mimetizzato dice di là un Jesse però almeno anche loro sono finiti nel film in qualche modo poi ho pensato una che si guarda lo vedi quello che cade lì ecco lo sono io ci vado non fai il truccatore sì ma sto là e tra l'altro ragazzi oggi stavo stavo c'entra un cazzo scusatemi perché ho letto giocavano 1 2 3 trucco in america non hanno 1 2 3 stella no c'hanno un'altra cosa simile però un'altra cosa che c'ha lo stesso concetto no perché oggi stavo vedendo un 2 3 stelle come fruci insegna è un 2 3 stai là no perché oggi stavo guardando una una recensione ironica di squid game dove giocano a red light green light e e ho notato che lo spiegavano cioè nel senso red light green light ovvero un gioco nel quale devi fare questo e quest'altro che è un po' strano perché se in italiano tu devi fare le recensioni della cosa non dici cioè se devi fare le recensioni di squid game dici e devono poi giocare a un 2 3 stella nel senso c'è bisogno di spiegarlo quindi il fatto che si sentissero in questa recensione il dovere di spiegarlo mi sono chiesto quindi in america non è un gioco così di futo di futo di futo di futo siamo stanchi oggi dai oggi siamo molto stanchi giustamente lo chiedo a voi siamo un canale italiano su Twitch Italia voi che cazzo ne sapete se è un 2 3 stella quello è simon 6 in america o no il vale dice quello è simon 6 ma è tipo strega comanda colore madonna strega comanda colore cioè quando cazzo hanno fatto con me chi ha detto come cazzo hanno fatto magari siamo solo vitti per un caffè comunque diciamo che se fai due conti nel caso ipotetico nel caso ipotetico non reale nel quale abbiamo girato effettivamente come cazzo hanno fatto con questo Gabriele il 29 ragazzi facciamo la facciamola sempre il 29 ragazzi dai su e che cazzo il 28 esce il film il 29 vabbè ragazzi comunque non è che non seguo slim dogs lo so c'ero mentre venivano fatte con le storie stavo solo facendo il misterioso quanto siete ragazzi voleva voleva fare a poi ci dicono che l'ha detto c'era di sentire a merda e ci dice ah raga mi raccomando non dire niente a nessuno non l'ha fatto mi ricordo c'ero durante la storia no io non l'ho sentito stavo a sentire stavo a parlare con Gabriele quindi non l'ho sentito quello che stava facendo comunque faccio un altro sbadiglio ok e vi dico un'altra cosa ovvero noi abbiamo parlato tanto dei dei vari dei vari spitfire no che sono stati famosissimi però so che è stata eliminata una cosa relativamente alla lente tubolare si è stata eliminata la lente tubolare è stata eliminato anche il il coso sul burrone diceva Marco cioè ah mazza quello è pazzesco allora allora praticamente non so se avete tenuto il fatto che per le riprese con Tom Hardy effettivamente dentro non hanno potuto usare gli spitfire hanno dovuto usare questi Yak 52 che sono per chi è esperto di aerei della seconda guerra mondiale degli aerei simili agli spitfire ma biposto invece che monoposto e più comuni gli spitfire sono degli aerei estremamente rari di cui ne esistono pochissime copie funzionanti quindi per le scene in cui Tom Hardy è effettivamente nella cabina di pilotaggio quello che succede non so se questa cosa è rimasta nel video però quello che succede è che è uno Yak 52 non uno spitfire che viene comandato da un pilota nel posto nel posto di dietro e invece Tom Hardy che sta nella sua cabina di comando in realtà non comanda un cazzo cioè semplicemente la camera portata su di lui e lui fa finta di di guidare e la cosa molto particolare però è che ci sono anche delle soggettive di loro che volano spesso e che si guardano intorno e il problema è che la camera IMAX era effettivamente troppo grande per entrare nell'abitacolo dello Yak 52 e quantomeno per entrarci e potersi guardare intorno nella maniera in cui fanno loro quindi che cosa hanno fatto hanno elaborato questa questa lente tubolare che è praticamente una una sorta di lente a serpente tra virgolette quindi è una serie di lente con degli snodi quindi invece di essere semplicemente un tubo dritto che parte dalla macchia da presa è un tubo che fa tipo tipo un tubo veramente dell'acqua quindi parte così poi c'è uno snodo fa così poi fa così poi fa così poi fa così eccetera eccetera e c'è un sistema di specchi dentro che gli permettono di fare questa cosa e potendo fare così praticamente loro hanno messo la macchina da presa fuori dalla dall'abitacolo ma con questa lente tuborale che entrava dentro l'abitacolo e quindi praticamente come se fosse un periscopio di un del concetto del periscopio del sottomarino quindi con un gioco di specchi l'immagine rimbalza e arriva fino al sensore esatto praticamente invece di muovere fisicamente la macchina da presa all'interno dell'abitacolo loro muovevano semplicemente la parte finale di questa lente tubolare che arrivava fin dentro l'abitacolo ed è una roba una follia essenzialmente bella trovata bella trovata beh quelle erano oitevano i tema il diretto della fotografia di 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 nolan da interstellar in poi che è un cazzo di genere ragazzi otevano i tema veramente ti preoccupare mauro dopo di che poi c'è quella cosa abbiamo le immagini di quando dovevano riprendere cioè che hanno montato quel pezzo di aeroplano su un affare idraulico che si muoveva quello c'è delle immagini praticamente nolan ci teneva a non usare mai il green screen neanche nelle scene in cui fisicamente dovevano fare solamente l'abitacolo e quindi il fondo poteva essere finto e per poterlo fare senza green screen praticamente hanno fatto montare questa sorta di di giostra sul sul bordo di un precipizio sul bordo di una scogliera in modo da poter avere comunque il mare e il cielo cioè l'oceano e il cielo come sfondo anche se erano statici e fermi sulla terra e poi c'era proprio fisicamente il nostro amico Christopher Nolan che spostava si stanno vedendo le immagini che quanto mi fa ridere quanto però gli si può dire tutto a Christopher Nolan tranne che non si sporca le mani no ma figurati ma questo è super apprezzabile ecco il direttore della fotografia e questo dizio è super apprezzabile io per questo lo apprezzo vedete lì che tira su e giù tutta quanta la il marchigegno con il povero Tomardi dentro che nei film di Nolan però non lo deve far vedere in faccia cioè questa cosa sempre una maschera sempre una maschera in faccia essere molto 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 importante tra l'altro ragazzi voi non vorreste chiamarvi oitevanoitema no però va bene che cazzo di cioè io vorrei tantissimo chiamarvi oitevanoitema che cazzo di nome vorrei essere bravo quanto lui a fare una fotografia sicuramente secondo te Mauro parlando sempre un po' di Dunkirk un po' no fra l'altro io trovo un'altra cosa che a Marco l'ha fatta incazzare che gli ha fatto alla fine spaccare la tazza tra l'altro i ragazzi ci sono stati in studio da noi anche questo nel segreto i ragazzi di Space Valley che ci hanno portato un casino di tazze Space Valley quindi io solo sa quante ne romperemo di quelle però andiamo avanti i ragazzi lo sanno gli abbiamo detto andiamo avanti io invece ho trovato la storia delle barche no che erano le barche che proprio sono andate a Dunkirk a recuperare eccetera io ho trovato molto bella come cosa forse la cosa che apprezzo di più nel film sapendolo nel senso che sono riusciti dato che sono riusciti a ritrovare le barche originali usare quelle cioè perché no sì e c'erano nel senso e poi i proprietari ne sono molto orgogliosi cioè il concetto è stato coinvolgere l'associazione di proprietari delle barche di Dunkirk che insomma hanno formato che insomma si conoscono un po' tra di loro tutti quanti perché non penso ci siano molte persone che hanno la passione per mantenere le le delle barche di 80 anni fa esattamente funzionanti e così come erano e le hanno coinvolti gli hanno chiesto se potevano fisicamente portarle sul set e questa è una roba che ha reso molto orgogliosi loro allora diciamo che noi Dunkirk non lo viviamo come una cosa personale però per una persona come Nolan nata in Inghilterra è un evento straordinario cioè è un evento storico che loro ricordano in maniera in maniera straordinaria c'è questo impegno civile da parte del popolo inglese che prende sulle proprie spalle era la responsabilità di andare a salvare dei giovani soldati è la cosa che ha fatto Nolan a me in Dunkirk che decidere di rappresentare i soldati per quello che erano proprio dei ragazzini questo mi è piaciuto molto solitamente i soldati noi li vediamo sempre intorno ai 30 anni perché così come ce li immaginiamo noi non immaginiamo io ho 30 anni quindi non so se mi ci vedete proprio tanto in guerra però in generale non immagineremmo mai io ce n'ho 40 però manco io non so se immaginereste mai no visivamente qualcuno tu vedi Tom Hanks in guerra in salvare il soldato Ryan e ci credi però poi effettivamente l'età dei soldati in molti casi era molto più simile a quelli di sia ma in generale a quella che c'è in Dunkirk c'è dei ragazzini che venivano lanciati lì sì ma noi siamo molto più abituati a vedere quando si parla di guerra di solito i film che vengono prodotti per la maggior parte sono i film che parlano della seconda guerra mondiale molti che parlano del Vietnam per esempio perché comunque è la produzione Hollywood eccetera loro parlano soprattutto di quello fra l'altro di guerra parla anche il film di Mainetti il 28 ottobre al cinema ragazzi quale film non so di cosa abbiamo quello per cui è uscito il trailer è uscito il trailer era ufficiale freaks out si capisce che parla di guerra ne hanno parlato pure al festival di Venezia il 28 ottobre al cinema noi ci andiamo io ci sarò io ci andrò è interessante sapere qualcosa di questo film vero potrebbe essere Giordano Marichetti ha fatto un film in realtà ha copiato il titolo da una serie web di un po' di tempo fa e poi ci ha messo out alla fine giusto per però il titolo è quello là e quindi diciamo i film di guerra a cui siamo abituati è sempre la seconda guerra mondiale un po' Vietnam eccetera e infatti Dunkirk io sfido a parte dato che noi siamo italiani non siamo inglesi sfido chiunque a dire no ma io la conoscevo già questa storia perché mi è stata a dire no in un anno è uscita una cosa sono usciti due film molto simili perché anche The Darkest Hour l'ora più buia che è il film su Winston Churchill con Gary Oldman parla della stessa cosa è solo che ne parla dall'altro lato nel senso ne parla dal punto di vista di chi stava in Inghilterra Winston Churchill ha la decisione di dover o meno di trovare una maniera per salvare questi 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 soldati sempre molto paradossale come ci sono degli eventi che si che si materializzano nella cultura pop nello stesso momento cioè nel stesso periodo sono citi due film che parlavano esattamente della stessa battaglia ma da un punto di vista diversi e così come mi ricordo che spesso succede escono fuori due film di Hercules due film che cazzo ne so The Prestige e The Illusionist è vero capitano capita spesso che c'è un argomento specifico che si Dogman si un argomento specifico e si materializza su due film diversi è vero nella cultura pop nello stesso periodo è vero però domanda per te mia non so se hai notato tutti i grandi registi prima o poi hanno a che fare con la guerra è come se fosse un po' un primo o poi cioè io immagino questi tizi tizi stai chiedendo quando farò il mio film no no però se è una cosa che hai notato anche te e se dai vari studi che tu fai alle monografie eccetera di registi ne parlano perché comunque tutti i grandi veramente prima o poi un film di guerra lo fanno cioè pure Tarantino ne ha fatto uno che idealmente quando io ho sentito Tarantino farà un film di guerra che cazzo c'entra Tarantino quella guerra poi è uscito in Glorious Busters e mi si sono detto ah vabbè cazzo però allora io penso che come dice sempre Aaron Sorkin una storia non esiste senza il conflitto no l'intenzione e l'ostacolo e secondo me il punto è che la guerra fornisce un un conflitto di base nel senso è la 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 più il più basico dei conflitti che puoi avere del è già costruito dentro capito nel senso c'è c'è già la l'intenzione e l'ostacolo dentro il l'ambientazione quindi non puoi fare a meno di fare una roba particolarmente carica da quel punto di vista quindi è una di quelle robe che ti attrae immediatamente come esatto la guerra la guerra non cambia mai ecco a me piacerebbe fare davvero un un film di fallout sarei mega fissa daddo chiede se il prossimo film di no sarà anche legato alla seconda guerra mondiale il prossimo film di no si sa da anni è su openheimer si parla della creazione della bomba atomica quindi ritorna secondo me il periodo dei prestigi un pochino ritorna quella quell'ambientazione cioè non gli stessi anni ovviamente però quel mood secondo me ritornerà un po di cristoforo comunque c'è c'hai altro su questa su dunkirk che poi non ho mai capito se è dunkirk o dunkirk però a seconda della pronuncia dunkirk la pronuncia inglese dunkirk la pronuncia francese perché tecnicamente è la costa francese quella ok però penso che in francese si scriveva dunkwerque dunkwerque credo credo però potrei dire un'enorme cazzata dunkwerque dice why be lovat giustamente nicola dice si dice che noran stia cercando un'atomica vera da fare esplodere è molto probabile molto probabile che forse questo chissà se questo lo fermerà forse si accollerà stavolta di non fare esplodere qualcosa se è reale al 100% no io volevo solo farvi notare invece una cosa che a me fa molto molto ridere in generale di quando grazie Gianni Barzon che ci dona 5 euro e diventa ufficialmente un saluto dall'Australia del progetto short movie live e allora che stavi per dire si parla spesso ultimamente di IMAX di camere IMAX non è sempre stato uno dei primi a voler girare la fiction ovvero le opere di finzione in IMAX perché l'IMAX è un formato nato per i documentari essenzialmente ora al di là del fatto di essere estremamente scomodo del fatto che la macchina da presa IMAX ha circa queste dimensioni vi consiglio di andare a vedere si è grossissima aspetta che la vediamo oitevano in tema a quel fisico per un motivo perché penso sia l'unico operatore in grado di mettere in spalla una camera IMAX e non comprimersi la spina dorsale c'erano delle immagini vediamo se le trovo vai tu continuo ora tutti i blockbasteroni sono girati in IMAX SNI sono proiettati in IMAX perché il formato IMAX non nasce proprio per fare delle riprese di finzione ma più dei documentari perché oltre come dicevo ad essere estremamente grandi oltre ad essere estremamente pesanti estremamente difficili da operare costose e rare estremamente rumorose fanno un panico della mannagina nel senso sono rumorosissime una roba sono talmente tanto rumorose che e questo mi fa molto ridere perché è una delle difficoltà che uno non immagina quando pensa ok hanno girato questo film in IMAX sono talmente rumorose che non si possono usare per girare le scene di dialogo e quindi in realtà le camere IMAX vengono utilizzate solo per girare le scene d'azione le scene i totali insomma tutta la roba di panorami e quella roba lì le scene di inseguimenti tutte quelle cose così ma ma è per quello che non ha avanzato il volume della colonna di Tenet ma per le scene di dialogo la maggior parte delle volte viene usata una camera normale con una pellicola a 60 mm che è una pellicola un po' più grande delle dimensioni similari a quelli della pellicola IMAX quindi può più o meno competere con quella che è l'impatto visivo perché come questa cosa fa riderissimo cioè il fatto che le camere IMAX siano talmente rumorose che non ci si possono girare di dialogo qua ce n'è una attaccata dietro un aereo cioè una roba gigantesca gigantesca e l'altra cosa mi fa molto ridere è che per la l'effettiva barca nella quale si trova il personaggio di Mark Rylance che decide di andare con la sua barca a salvare i soldati quindi si fa tutta la traversata quella roba lì l'hanno girata effettivamente dentro una barca cioè hanno preso effettivamente quella barca e sono messi lì con la camera e ancora qua e niente si sono detti facciamolo mettiamoci là dentro Christopher Nolan è un tema che tra l'altro vi ricordo Christopher Nolan non sta mai al monitor Christopher Nolan o sta accanto alla macchina da presa o guarda la scena da un monitorino piccolino che si tiene lui in mano però non sta quasi mai al video village con il monitor perché lui crede in un certo tipo di regia cioè prima degli anni 70 Shining è stato il grosso uno dei film in cui c'è stato il grosso avvento dei monitor esterni con cui ti potevi effettivamente vedere quello che stavi girando ma prima dell'avvento dei monitor quello che succedeva è che i registi si affidavano ai loro operatori cioè guardavano dentro il mirino che cosa stavano riprendendo più o meno dicevano cosa succedeva e poi dicevano all'operatore vai falla 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 io come faccio a sapere che la fai bene non lo so mi metto semplicemente accanto alla macchina da presa e la guardo guardo quello che succede immaginando di essere la lente ma non la vedo effettivamente perché non c'è il monitor ecco Nolan dirige così le scene cioè non non sta al monitor ma sta o con un piccolo monitorino che usa per le robe molto importanti o solitamente si mette accanto alla macchina da presa e immagina di avere quella lente la differenza principale fra l'IMAX e la camera normale quando si girava in pellicola l'IMAX se non sbaglio quanti millimetri è più o meno una 70 è una roba tipo intorno ai 70 è più o meno intorno ai 70 millimetri normalmente dovremmo essere con la pellicola normale o comunque col digitale adesso dovremmo essere una dimensione di 35 millimetri quindi diciamo che è un po' più del doppio ecco cioè è più o meno il doppio fra l'altro c'è un'immagine qua che ho trovato sulla barca dove ci sono tre tizi che tengono un IMAX no due tizi credo dall'immagine che tengono la camera IMAX sulle spalle che è una roba giganterrima e fra l'altro come vi ricordiamo ogni volta che si parla di Nolan le camere IMAX ci sono poche nel mondo fino a qualche anno fa ce ne erano se non ricordo male o tre o quattro una cosa del genere e e Nolan ne ha distrutta una non lui proprio fisicamente però durante le riprese di The Dark Knight la scena quella sulla sotto il cavalcavia dove c'è il Joker che insegue quello che doveva essere il furgoncino con all'interno adesso non mi ricordo in quel momento chi ci doveva essere ah no Due Facce cosa cazzo si chiama Aaron Eckhart Aaron Eckhart sì no il personaggio non mi ricordo Due Facce si chiamava il nome del personaggio il nome del personaggio due facce Harvey Dent Harvey Dent durante quella scena di quell'inseguimento c'erano delle auto della Mercedes con sopra una gru che appunto avevano legate le IMAX avevano attaccate le IMAX per girare appunto le scene di inseguimento c'è stato un piccolo errore è una gru ha letteralmente sfracellato su un pilone della strada una telecamera IMAX distruggendola totalmente quindi credo che se non ricordo male il primo film girato in IMAX non totalmente perché non non ha girato totalmente in IMAX ma in gran parte è proprio Il Cavaliero Oscuro che Nolan ha girato in gran parte in IMAX la prima il esatto aveva in IMAX tutti i totali non solo quello c'aveva anche altri totali perché si vede però la cosa la cosa interessante era che per la prima volta la stavano usando per dei primi piani mi ricordo che il problema era fare il fuoco sulla maschera di Joker quando se la leva dice cosa quello che non succede di rende più strano era difficile fare il fuoco perché la camera IMAX hanno una profondità di campo molto molto corta si si è stato lì e poi hanno girato un tot di altre cose poi gli inseguimenti e altre tipo l'esplosione del palazzo si anche quando lui va a recuperare il cinese c'è un'inquadratura dei palazzi che in IMAX me le sono contate quando è uscito il Blu-ray perché hanno fatto questa grande porcata secondo me nel Blu-ray non so se sono stati obbligati lasciare l'open mat hanno praticamente nel Blu-ray se vedete il Cavaliere Oscuro in Blu-ray ci sono delle volte che ci stanno le bande nere sopra e sotto e delle volte che invece il fotogramma prende tutto quanto l'ho trovato scusami The Dark Knight ha 6 sequenze un totale di 28 minuti in IMAX questa cosa mi ha fatto un po' rosicare quando ho visto il Blu-ray perché mi dava un po' fastidio il fatto che passava da fotogramma intero per tutto lo schermo a quelli tagliati con le bande nere non so mi ha dato un po' fastidio però vabbè alla fine comunque l'IMAX viene utilizzata in maniera interessante per i totaloni quanto costa più o meno una camera IMAX centinaia di migliaia di dollari centinaia di migliaia è come dire quanto costa una tuta per andare nello spazio non lo so le produci contate anche perché non vengono acquistate cioè vengono noleggiate dall'IMAX cioè proprio l'IMAX che te le noleggia e tu te le prendi da loro essenzialmente sì 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 non è una cosa che puoi dire la compro anche perché assolutamente cioè non è non è economicamente interessante o intelligente io volevo dire un'ultima cosa prima di andare a dormire perché sto evidentemente morendo di sonno vi ho raccontato tutta quella esperienza quella quella roba della barca prima per dirvi una cosa molto 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 scema mi fa tanto ridere ovvero che il fatto che loro fossero su questa barca ha comportato un problema per quanto riguarda l'audio però non fisicamente sulla barca girare le scene di dialogo ed era un panico ed era effettivamente molto molto rumoroso il mare la barca insomma un casino il fonico quindi ha richiesto a dei tecnici di costruire del materiale isolante intorno al motore della barca in modo che potesse fare meno rumore e che loro potessero quindi girare e registrare dialoghi sulla barca in movimento senza avere troppo rumore questa cosa fa tanto ridere il fonico che va dal tecnici senti poi questa barca che non voglio sentire il rumore della barca è sempre quello la produzione di un film sono scelte del regista su come vuole raccontare tutta una serie di cose e sicuramente le scelte di Christopher Nolan permette che i suoi film siano dei pezzi unici comunque che piacciano o no non si può fare altro che dire comunque sto andando a vedere cioè sto vedendo una cosa particolare è difficile che un film di Nolan è un clone di un'altra cosa ci sono tanti film cloni quelli di Nolan sono sempre molto particolari perché lui ha questa visione abbastanza diversa dagli altri e poi anche le possibilità economiche di potersi permettere determinate cose in quel caso quando si prendono queste scelte che come Fraland dice sono soldi non scelte no sono scelte alle quali consegue ovviamente una certa spesa Nolan può fare questo determinato tipo di scelte perché ovviamente da contratti ha determinati budget e quindi si permette determinate cose a quel punto avendo fatto tutte queste scelte e poi escono fuori tutti i cazzi cioè i vari problemi che ci sono di produzione e poi si cerca di risolverli è sempre così la produzione di un film è problema soluzione problema soluzione problema soluzione è sempre questo il discorso dobbiamo fare questa cosa evidenziamo i problemi partiamo da quelli troviamo le soluzioni e poi facciamo le cose che si fanno normalmente che vengono facili ed è bello anche per questo lavorare in questo mondo io Mauro se non ti dispiace tanto che direi che abbiamo chiuso abbiamo finito volevo ringraziare velocemente un po' di iscritti tipo Natman 14 per i tre mesi Federica Marti nove mesi Animus Rendi al quinto mese Intercondylar Eminence nove mesi Volpe Titu che si è appena iscritto on Prime che l'ha essi 89-8 mesi Etaiello due mesi Deborah Vederio 12 mesi a tavola con il nutizionista ha fatto il ride leggere gli scazzi grazie ancora per la donazione Fede Passi quattro mesi Gianni Barzon 11 mesi R4 7 mesi Danni 38-97 7 mesi Banks 5 mesi Light Dreamen 13 mesi Julfrax 7 mesi Roberto AMD 13 mesi Don Vito 11 mesi Vix Larox 12 mesi Imparanoia Mi 3 mesi Francesco Fact 16 mesi Matteo Lamanna 3 Matteo Lamanna 3 appena iscritto con Prime e tanti altri ragazzi grazie mille per il sostegno sapete benissimo che il nostro progetto editoriale su Twitch è una cosa che certamente non è che ce l'aspettavamo così tanto ma vi piace tanto e il fatto che lo sostenete abbonandovi eccetera ci fa molto piacere e soprattutto nell'ultimo periodo il fatto che con le varie donazioni state sostenendo quello che è questo progetto che abbiamo di questo cortometraggio dove seguite la produzione la preproduzione e la postproduzione in live lo short movie live su questo cortometraggio post apocalittico dove succederà di tutto di più dove maurone zingarelli è il regista è dio indiscusso di questa cosa ma sul montaggio di stai zitto che lo faccio io però stavi dicendo vi dico solo che abbiamo commissionato la costruzione di dei dardi veri e dei dardi finti con la punta di gomma per evitare di uccidere delle persone però ci sono dei dardi però ci sono dei dardi basta e tu dimmi quando lo fai che io casualmente lancerò Marco Cioni a linea di tiro ma quello a me la cosa che trovo la cosa che trovo ancora un po' surreale io ho letto la sceneggiatura nel senso l'abbiamo scritta insieme con Tommaso Renzoni l'abbiamo ideata insomma lì l'ha scritta e poi ho fatto una piccola revisione insomma poi ne parleremo sulla live di sceneggiatura come è andata il 7 novembre se non ricordo male Giacomo Boria ti prego correggi ma credo che sia il 7 novembre non lo so forse il 7 c'è un'altra cosa Giacomo sta per dirlo in 3 2 si Giacomo adesso scrive le date giuste è il 3 novembre mi ricordavo tagli che ho vinto Giacomo che ho vinto niente il fatto che mercoledì 3 novembre starei qua a fare la live quindi era il 3 il 7 c'è un'altra cosa esatto che poi stabiliamo che sia veramente il 7 e poi ve lo facciamo sapere però il 3 novembre c'è questa prima live di sceneggiatura con Mauro Tommaso eccetera quello che faccio ancora fatica a realizzare intanto ragazzi adesso siamo in chiusura quindi se volete accaparrarvi qualche biglietto per il cinema questo è il momento io ho letto la sceneggiatura noi siamo in piena preproduzione ok sai che io ancora no e ancora sei uno stronzo la trovi beh se qualcuno me lo diceva che era pronta io magari adesso il drive è sul drive lo so siamo alla terza stessura allora io ho letto la sceneggiatura l'ho passata a reparti scenografie e costumi che stanno facendo i costumi a fotografia ho mandato tutti quanti i mood board dei costumi le cose soprattutto le cose di cui parleremo insomma siamo in piena preproduzione anche perché il corto dobbiamo girare tra poco essenzialmente se a gennaio lo vedremo tutti insieme e ogni volta ne parliamo in live mi rendo conto che voi che state secondo questa live non ne sapete assolutamente un cazzo niente niente voi sapete solo quella roba cioè che post apocalittico a un certo punto due persone vivono in questo mondo post apocalittico trovano un gameboy e c'è un problema no perché se non c'è un problema di che cazzo stiamo facendo ragazzi non sanno neanche il titolo ovviamente i tardi le balestre che stiamo costruendo non sapete il titolo lo diremo nel live di sceneggiatura le cose le armi i costumi la location che ragazzi è una roba fuori di testa la location ne hanno visto un pezzo però la loot è vero ne avete visto un pezzo per chi segue editing in chill abbiamo fatto una chiamata Adriano con Giacomo Giacomo c'ha pensato quello è lui però gli abbiamo detto ad Adriano abbiamo detto senti stiamo pensando di mandare in live un pezzettino dai sovralluoghi che dici stavamo sta chiamata e lui si si ok quindi lui lo sapeva poi non ce l'ha detto io ho iniziato a filmarci io lì potevo girarmi e dirti una cosa orribile perché mi sono stesse facendo un video io non l'ho capito solo a posteriori che era una live quella giustamente Dragon è una fighissima Mauro e non vorrei pubblicizzarmi però faccio parte di tutte le cose che ottengo grazie alla mia partnership con pampling come questa maglietta qual è il codice sconto non so se lo posso dire zero skills allora ma si sa già il periodo in cui ci saranno le protezioni e le protezioni le proiezioni perché mi piacerebbe partecipare ma sarò a Roma solo da marzo allora prima la proiezione sarà non lo sappiamo intorno a gennaio fine gennaio inizio febbraio indicativamente però più o meno questa informazione con le pinze sicuramente l'anno prossimo sì 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 più o meno in quel periodo là quando ci saranno le prime immagini ovviamente un teaser veloce quello magari riuscirete a vederlo tutti per il corto ragazzi come diciamo sempre lo vedrà solamente chi sarà alle due anteprime a Roma e a Milano perché poi dato che l'intenzione è quella di mandarlo in giro per i festival eccetera eccetera non sarà distribuito online in nessun modo fino a quando ci sarà la possibilità appunto di mandarlo in giro a farlo vedere a festival e a cazzi vari perché molti festival vogliono non vogliono la distribuzione online o la distribuzione in sala le anteprime sono degli eventi privati quindi è un'altra storia e quello possiamo fare detto questo vi ricordo velocemente c'è ballerino forse lo stiamo cercando ma anche uno che balla in fondo a caso Mauro esatto è un esperto del caldo non penso perché gireremo tra un po' e quindi farà molto freddo ci avremo l'esperto del freddo probabilmente l'esperto del freddo forse sarà allora sicuramente esperti l'avete vista la location ci saranno degli esperti del posto perché non è facile girare lì esatto l'esperto di capelli sono io l'esperto di capelli ragazzi comunque ragazzi detto questo vi ricordo che Mauro Zingarello qua ha un suo canale Twitch dove parla di cinema l'altro giorno stava a vedere trailer con Fiorenza e parlavano e commentavano trailer se fate punto esclamativo Mauro in chat lo trovate io ho anche un mio canale Twitch dove parlo di tutto e di più e gioco spesso sono entrato nel trip di Animal Crossing spero di uscirne presto perché sennò diventa una cosa pericolosissima e per esempio l'altra sera ho fatto vedere ho raccontato quella che è stata l'esperienza di questo concerto di John Williams che sono andato a vedere a Berlino e li ho visti addirittura due giorni di fila uno dopo l'altro ho fatto vedere pure delle clip che sono riuscito a rubare fatti vedere in live andrò in live io adesso no ragazzi ho finito non sbadiglio come Mauro ma anch'io sono finito e domani devo finire il video che uscirà venerdì perché questo venerdì e speriamo che la dico giusta non credo Giacobbo mi correggerà uscirà una nuova puntata di se vabbè quel nuovo format dove abbiamo questo scienziato pazzo che ci spiega tecnicamente come dovrebbero morire male le persone che fanno delle scene assurde e questa puntata in particolare è a tema 007 quindi sono state esaminate tre scene stunt abbastanza strane di abbastanza strane abbastanza strane di film di 007 dove tu dici alla fine se vabbè ma qua c'è rimasto e poi invece va tutto avanti e quindi c'è il se vabbè venerdì alle 14 come sempre questa domenica il nostro prossimo appuntamento sarà domenica su questo canale twitch e questa domenica vedremo un film ci sarà un watch party vedremo un film saremo sicuramente io e Mauro sicuramente ci sarà anche Fiorenza perché nel senso ci mancherebbe guarda un film ci sarà anche lei ci mancherebbe ci saremo sicuramente io e Mauro non so chi altro ci sarà di noi e per quanto riguarda la scelta del film succederà qualcosa nel canale telegram nel quale possono accedere le persone che sono iscritte scritte però 007 è girato sì però Fra Land aspetta e guarda sto finendo di montarlo devo finire di montarlo domani questo se vabbè in mezzo a tutta una serie di altre cose che stiamo facendo domani lo finisco di montare e ce n'è una che effettivamente non mi aspettavo fosse così assurda invece risulta assurda e molto pericolosa per tutta una serie di cose il watch party è questa domenica sempre alle 9 e mezza noi adesso se andiamo a fanculo lo sai di quello che vuole dire una cosa che non c'entra un cazzo però se non tradico adesso non lasciamo più dimmelo ho scoperto una cosa l'altro giorno che mi ha questo chiudiamo che mi ha reso molto molto curioso prima parlavamo del canale Twitch no io raramente gioco a roba narrativa perché soltanto chiacchiero ma l'altro giorno ho scoperto che hanno fatto la remastered per questa generazione di console di Alan Wake certo e io Alan Wake non l'ho mai finito all'epoca perché era un'esclusiva Xbox era un'esclusiva Xbox che non ho mai giocato perché avevo una Playstation adesso l'hanno fatto bellissimo e io adesso quindi sono certo che me lo compro e lo gioco in live perché non me ne frega un cazzo che devo stare zitto se saremo tutti zitti e seguiremo la storia di Alan Wake perché era una delle robe che a me mi ricordo fu uno dei concept che quando she mi interessava tantissimo era una roba incredibile quindi non vedo l'ora di ma io con The Last of Us 2 ho fatto così The Last of Us 2 me lo sono giocato tutto in live anche Cyberpunk me lo sono giocato tutto in live e con i ragazzi seguivamo la storia anche perché The Last of Us figura c'è una storia che porca puttana e quindi seguivamo la storia intanto ringraziamo prima di andare via Light Dream Man che ha appena donato 60 euro dicendo ci vediamo a Milano cani fega basta ragazzi grazie di tutto fega ci vediamo a Milano fega ci vediamo a Milano noi ci vediamo domenica ci vediamo a fega per il quasi quiz no in realtà ci vediamo venerdì pomeriggio il prossimo appuntamento immediato e che cazzo ne avevamo duemila e venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18 per fare delle cose in editing and chill e ragazzi seguitelo perché spesso ci sono spoiler di cose che normalmente in serata non diciamo ma invece lì dato che siamo cattivelli lo facciamo basta nice guys guarda di nice guys e se te lo sei già visto guarda dopo di nuovo ciao 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 ciao